Signor Gardner, da questa parte, prego la stanno aspettando. Signor Gardner, da questa parte, prego la stessa parte, prego la stessa parte, prego la stessa parte. Chris Gardner. Chris Gardner, come sta? Buongiorno. Chris Gardner, Chris Gardner, piacere di rivederla. Chris Gardner, piacere. Sono stato seduto là fuori per mezz'ora cercando di trovare una storia per giustificare il fatto di essere venuto qui, vestito in questo stato. E ho cercato di pensare a una storia in grado di dimostrare delle qualità che sono sicuro voi appreziate qui, come l'essere volenterosi, essere precisi, avere un obiettivo, fare gioco di squadra, ma non mi è venuto niente in mente. La verità è che sono stato arrestato per non aver pagato una serie di multe. Una serie di multe? Cosa? Me la sono fatta di corsa fin qui da Polk Station, dalla centrale di polizia. Che stavo facendo prima che l'arrestassero? Stavo imbiancando l'appartamento. È asciutto adesso? Spero di sì. Jay dice che lei è molto determinato. È stato ad aspettarmi fuori all'ingresso con un attrezzo di quasi 20 chili per oltre un mese. E dice che è intelligente. Mi piace pensarlo. E vuole imparare questo mestiere? Sì, voglio imparare questo mestiere. Ha già iniziato a studiare per conto suo? Certamente, sì. Jay? Sì, signore. Quante volte hai visto Chris finora? Non lo so. Una volta di troppo, direi. L'hai mai visto vestito così? No. No. Sempre in giacca e cravatta. Primo della sua classe, la scuola? Alle superiori? Sì, esatto. Quanti eravate in classe? Eravamo 12. Era un paesino. Ah, certo. Ma sono stato il primo anche al corso per radaristi in Marina e quella era una classe di 20. Posso dire una cosa? Eh. Sono il tipo di persona che se mi fate una domanda e non so qual è la risposta, vi dico chiaro il tonto che non la so. Ma potete scommettere che so come trovarla una risposta e che la troverò la risposta. Mi seguite? Chris, che cosa direbbe lei se uno si presentasse a un colloquio senza nemmeno una camicia e io lo assumessi? Che cosa direbbe lei? Che magari indossava un gran bel paio di pantaloni. Chris, non so come ce l'hai fatta vestito da spazzino, però ce l'hai fatta. Grazie mille, signor Twister. Adesso puoi chiamarmi Jane. Ci sentiamo presto. Ah, sì, lei faccio sapere, Jane. Le faccio sapere. Che vuol dire? Sì, la chiamo domani così magari possiamo andare. No, ma che stai dicendo? Mi hai dato il tormento. Sei stato qui. È che non prenderei stipendio. No. Io non lo sapevo, questo. La mia situazione era un po' cambiata, quindi io devo sapere di essere in grado di... Ok. Stasera. Ti assicuro che un altro ce lo posso mettere al posto tuo. Sai che figura? Se per caso ti tiri indietro, che figura faccio con i miei soci? La figura... Del coglione. Esatto, la figura del coglione. In tutti i sensi. Certo che sei un bel soggetto. Stasera.